Amici sportivi, buon giovedì, bentornati alla C-Sport, abbiamo tanto da raccontarvi anche oggi, allora non perdiamo tempo, partiamo subito dalla pallavolo, perché? Perché la tonocallipo alza il muro, si chiama Giacomo Sintini e in Calabria punta a sgretolare ogni record in questo fondamentale, partiamo da qui e dopo tutto il resto, via! Gli inglesi lo chiamano The Wall, in Italia è più semplicemente il muro, in Calabria ce n'è uno quasi insuperabile ed è fatto di carne ed ossa, si chiama Giacomo Sintini e di professione fa il palleggiatore in casa tonocallipo, con i due muri realizzati nel match contro Castellana Grotte, Jack ha infranto il muro, è proprio il caso di dirlo, di 30 punti in questo fondamentale, 31 per la precisione in 15 partite. Dall'introduzione del rally point system tra Serie 1 e Serie 2, solo un altro palleggiatore ha fatto meglio di lui nello stesso lasso di tempo, ironia della sorte, e un altro ex gelo rosso, il cubano Javier Gonzalez, che nella stagione 2010-2011 ne mise a referto 33. Dopo i mille record sgletolati, Jack The Wall vuole superare anche questo e la trasferta nella Tana del Matera di domenica prossima è la chance più ghiotta. La formazione lucana infatti è una delle formazioni che subisce di più in questo fondamentale, 46 i muri patiti nelle sole quattro giornate del girone di ritorno. Staremo a vedere come andrà a finire, passiamo adesso al basket, la Viola Reggio torna davanti al proprio pubblico e vuole sfruttare al meglio le due care gare casalinghe consecutive previste dal calendario, prima avversaria Scafati. Viola in cerca di riscatto contro Scafati, i nero-arancio sono al lavoro per arrivare pronti al primo dei due match casalinghi consecutivi che dovranno dire molto sull'ultima parte di stagione del team dello stretto. Benedetto e compagni hanno grande voglia di riprendere il passo spedito con cui si era chiuso il 2014 e continuare così a coltivare ambizioni d'alta classifica. L'emergenza infortuni sembra finalmente rientrata e anche l'arrivo del Play Spissu ha rappresentato una bella boccata d'ossigeno per coach Benedetto, costretto nelle ultime gare a fare i conti con rotazioni estremamente limitate. Fondamentale per qualsiasi ipotesi di rancio è come sempre il fattore pubblico. Il palacalafiore in più di una circostanza si è rivelato l'elemento in più per dare alla Viola la spinta decisiva indispensabile per risolvere partite complicate. A chiamare la donata nero a rancio è ancora una volta il presidente Giusva Branca che in settimana ha sottolineato l'importanza del rientro di Eric Rush, ribadendo al tempo stesso che il DS Condello continuerà a perlustrare il mercato per eventuali nuovi innesti in grado di allungare ulteriormente il roster a disposizione di Benedetto. Passiamo adesso al calcio con il Cosenza che ieri ha conquistato le semifinali di Coppa Italia di Lega Pro battendo la Juve Stabia ma guarda con più attenzione al match di campionato contro la Lupa Roma. Dopo la Salernitana il Cosenza mette in riga anche la Juve Stabia ed accede alle semifinali di Coppa Italia di Lega Pro. I Silani schiacciano le Vespie a domicilio e grazie ad un gol di De Angelis al 76esimo rientrano tra le quattro formazioni che si contenderanno il trofeo tricolore. L'ex Stabiesi approfitta di un errore di Burrai e punisce senza tentennamenti i suoi ex compagni di squadra. La formazione di Pancaro prova a recuperare in corso lo svantaggio ma al turno successivo ci va il Cosenza. In semifinale i Lupi incontreranno il Ponte d'Era che ha battuto la Casertana ai rigori. Archiviata la Coppa i Rosso-Blu si sono messi subito al lavoro in vista del match contro la Lupa Roma. Nella sfida contro i Capitolini Mr. Roselli potrà contare su un laziale doc come il difensore Riccardo Serpieri prelevato dalla Lazio e già aggregato al gruppo Silano. Abbiamo fatto un'ottima partita, certo tenere sempre conto che la Juve Stabia ha fatto riposare tantissimi titolari ma questo è abbastanza scontato. Però ha una buonissima rosa, ottimi giocatori che erano in campo anche oggi. Noi abbiamo un po' fatto di necessità a virtù nel senso che sono stato costretto perché questi erano i disponibili a far giocare magari qualche titolare in più proprio perché non avevamo altre situazioni. Dunque da una parte sono molto felice e dall'altra spero che recuperino bene per domenica che per noi è sicuramente più importante. Cosenza in campo domenica quindi con la Lupa Roma. Sabato alle 19.30 sarà invece Regina contro Lecce. Beh in campo tra gli Amaranto potrebbe esserci il neo arrivato Balistreri. Lavoro a porte chiuse per la Regina impegnata nella preparazione alla delicata sfida di sabato sera quando al Granillo arriverà un Lecce in piena bagarre playoff. Alberti in questo momento cerca soprattutto la giusta concentrazione dopo lo shock subito nel derby dello stretto ma con l'orecchio sempre teso verso possibili novità dai ultimi scampoli di mercato. Ieri nel frattempo è arrivata l'ufficializzazione di Balistreri proveniente dalla Torres che dovrebbe assicurare maggior peso nell'attacco a Maranto. La punta è già sbarcata in riva allo stretto ed è a disposizione di mister Alberti che medita di gettarlo subito nella mischia nel difficile match contro i Salentini. L'attaccante palermitano in cerca di riscatto dopo una prima parte di stagione sotto tono dal canto suo si è detto pronto e carico per la nuova sfida con una maglia che al di là dell'attuale momento porta con sé sempre un grande prestigio. Lo stesso Alberti tuttavia confida ancora in qualche soluzione last minute per rintuzzare il reparto offensivo che rischia di indebolirsi con la sempre più probabile partenza di Insigne. Ma anche in mezzo al campo e in difesa servirebbero degli innesti in grado di garantire maggiore qualità e affidabilità. Su questo è a lavoro Foti che cercherà di sfruttare ogni istante delle ultime ore di mercato per piazzare altri colpi. Ci spostiamo adesso alla Mezzia Terme, quartier generale della Vigor La Mezzia. C'è la salernitana di fronte ai biancoverdi della squadra di Salerno ma anche dei tifosi. Ha parlato ai nostri microfoni il jolly difensivo Francesco Rapisarda. Sentite. Forse queste partite li giochiamo diversamente e forse è meglio, speriamo. Dobbiamo andare a Salerno a cercare di fare più punti possibili per cambiare questo momento negativo e prendere quella strada che ci porta alla salvezza. I tifosi momentaneamente hanno un po' di ragione perché sono preoccupati. Giustamente da dieci giornate la squadra non riesce ad esprimere il proprio gioco e non riesce a portare punti a casa. Io li capisco perché non è facile. Come ce l'hanno loro la preoccupazione ce l'abbiamo anche noi. Giustamente loro si preoccupano ed è giusto così. È giusto che ci siamo presi gli applausi, è giusto che ci prendiamo gli fischi quando ce li meritiamo. Bene così, con questo è davvero tutto. Grazie per averci preferito. Vi ricordo l'appuntamento con l'AC Sport di stasera. Vi aspetto più tardi. Adesso il medio. Grazie.